Presto, si cercherà di farlo entro l'inizio del nuovo anno scolastico, nuovo lifting per il Terminal Bus di Piazza Pizzarello, che l'amministrazione comunale di Macerata ha dato in concessione alla società Terminal Marche Bus, un pool di aziende private composto da Contram, Sasp, Steat, Roma Marche Linee e Eurobus, per la durata di 25 anni. 290.000 euro di lavori di recupero della struttura e miglioramento dei servizi a carico del concessionario, che però non pagherà il canone annuo di 12.000 euro, mentre il Comune corrisponderà a un contributo annuo di 24.890 euro per la gestione dei servizi, compresa la vigilanza e custodia. Era uno dei punti di programma di questa amministrazione, cerchiamo di dare una risposta in tempi brevi, prima possibile, in modo che magari per settembre, quando riprendono le scuole, già molti lavori sono stati fatti, ma soprattutto lì c'è un discorso di riorganizzazione, di pulizia, di sicurezza, che è una risposta che dobbiamo dare a tutta la città. La riqualificazione, come da bando, prevede lavori di sistemazione messa a norma dei locali interni ed esterni e racciude anche un progetto sociale e di accoglienza rivolto ai giovani che frequentano il terminal, attraverso dei punti di incontro formativi e informativi, in collaborazione con associazioni. Negli ultimi tempi Piazza Pizzarello è salita agli onori della cronaca purtroppo per l'incuria dei locali tipo i bagni pubblici. Il problema, come rimarcato in conferenza stampa, non è di facile soluzione vista l'inciviltà di alcuni cittadini, ma un'ipotesi potrebbero essere bagni ad alta tecnologia e telecamere di sicurezza. Certamente, come diceva anche il Presidente Berardinelli, noi adotteremo un sistema ovviamente di responsabilizzazione, quindi i bagni, se tutto è gratuito, non vale niente. Abbiamo visto nelle stazioni italiane e anche in dei sopralloghi che abbiamo fatto, anche in stazioni di termine, oltre a quelle ferroviarie, che molti bagni sono a pagamento. Anche un minimo, ma il pagamento garantisce la presenza del custode, la pulizia, dei bagni e tutto quello che attiene all'icene. Se sono abbandonati a loro stessi, ovviamente come sono stati oggi, vengono poi ridotti come sono stati oggi. Quindi noi faremo un intervento in questo modo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.